La riqualificazione energetica dei vecchi edifici, dei condomini in centro storico, per esempio, credo sia il prossimo futuro per quanto riguarda le costruzioni a secco. La scelta che stanno facendo molti amministratori condominali, molti professionisti, di riqualificare o di proporre i condomini alla riqualificazione energetica, sta virando sulla facciata ventilata anziché rispetto ai tradizionali sistemi a capotto perché offre una miglioria totale da un punto di vista energetico, una miglioria da un punto di vista anche del valore dell'immobile perché una facciata ventilata dà valore, dà prestigio a un immobile degli anni 60, degli anni 70 e con gli sgravi fiscali in vigore nell'arco dei dieci anni si assottiglia molto il peso economico sulla famiglia facendo recuperare gran parte della spesa sostenuta.